I Beati Paoli di Luigi Natori Ma la portantina non si mosse. I due volanti, in un attimo, erano stati gettati a terra e ridotti all'impotenza e i due portantini avevano creduto di correre in loro soccorso. Don Raimondo, stupito e cruciato, sporse un'altra volta il capo ma ebbe appena il tempo di percepire una scena confusa di corpi rovesciati fra altri corpi e un balenio d'armi che sentì una lama fredda e acuta pungegli il collo e una voce minacciosa dirgli non una parola o sei morto. Lo spavento, più che l'ingiunzione, gli tolse la parola. La portantina era circondata da uomini mascherati e intabarrati armati di pugnali e di pistole. I servi, colti alla sprovvista, atterrati, legati, imbavagliati erano trasportati via da altri uomini. Egli era solo, indifeso, in balia di quegli esseri misteriosi. Un nome, che suonava a terrore, gli salì sulle labbra ma non so pronunciarlo, non potè, i beati paoli. Non vi sarà torto un capello, gli disse colui che aveva parlato se non direte una sillaba e se non farete la menoma resistenza. Ma che cosa volete da me? Balbettò Don Raimondo con un filo di voce. Lo saprete, intanto ubbidite. Non c'era da fare resistenza. Quell'uomo, tratto dal seno un fanzoletto di seta gli bendò gli occhi strettamente con una funicella, gli legò le braccia dietro le reni lo ricacciò sul sedile e ripeté «Siete avvertito, guai a voi, se gridate, non compireste il grido». Don Raimondo sentì sollevare la portantina che riprese la via con maggiore celerità. Dove lo portavano? Avvertì che svoltava ora a destra o a sinistra ma non arrivava a comprendere quali vicoli percorresse in quel quartiere che egli pur conosceva perfettamente. Quindici minuti dopo la portantina si fermò. Quella stessa voce gli disse «Alzatevi». Nel tempo stesso quattro mani lo strinsero per le braccia, guidandolo. Discese una scala, girò, poi si sentì sollevato di peso portato un po' su e giù, infine deposto sopra una sedia. Allora gli tolsero la benda. Egli si trovava in una stanza appena rischiarata da due lampade a olio poste sopra un tavolino sul quale stava un libro, un Cristo, un calamaio e della carta. Dietro, intorno al tavolino, accanto e dietro a sé una dozzina di uomini avvolti in mantelli neri, col capo coperto da un cappuccio, il volto mascherato, la mano armata di pugnale. Un gran silenzio regnava nella stanza. Don Raimondo sudava. Dietro le maschere vedeva brillare pupille minacciose, le lame avevano delle vibrazioni nervose che le facevano balenare sinistramente. Duca della Motta, disse l'uomo che aveva parlato fino allora, noi conosciamo i tuoi delitti. Don Raimondo divenne più pallido. Noi conosciamo in che modo tu, da semplice cavaliere, sei diventato duca e signore di un patrimonio che non ti apparteneva. Noi, ascolta bene, sappiamo dove e perché è morta Donna Loisia, vedova di Don Emanuele della Motta. Il duca ebbe un brivido di terrore. Sappiamo come e perché è morta Maddalena, assassinata da te e da un tuo servo. Don Raimondo si sentì venir meno. Tentò una difesa, balbettò con voce soffocata. Non è vero. Taci, impose l'uomo misterioso, e pensa che qualche volta le tombe si aprono e gli accusatori vengono fuori. Noi abbiamo prove e testimoni. Bada, duca della Motta. Non è vero, non è vero, balbettò ancora una volta Don Raimondo. Bisognerà dunque ricordarti i beveraggi di Peppa la Sarda? Queste ultime parole fecero uscire di sé il duca della Motta, pallido come un morto, tremante, smarrito, potea stento fra il battere dei denti, spiccicare qualche parola. Chi siete? Che volete? Vedi dunque che abbiamo tanto in mano da consegnare la tua testa al boia, inaugurare il nuovo regno con un grande atto di giustizia. Ma non è il tempo. Il boia, la mannaia, Don Raimondo si vide perduto, con un gemito, con la bocca stretta da uno spasmo delle mascelle, ripete, chi siete? Che volete? Chi erano dunque quegli uomini misteriosi che frugavano nel suo passato e tenevano sospesa con un filo la scura del carnefice sopra il suo capo? Come sapevano tutto? Perché gli rievocavano quelle torbide notti di delitti? Chi siamo? Rispose l'uomo mascherato. La giustizia, la vera giustizia, quella del popolo che non fallisce perché non è pagata. Che cosa vogliamo? Impedirti di nuocere a della brava gente, di compiere altre infamie. E rivoltosi a due uomini che stavano dietro a Don Raimondo, ordinò, scioglietelo. Quelli ubbidirono. Duca della Motta, riprese il capo, tu hai fatto arrestare e tenere in carcere senza processo, senza giudizio, due brave persone, gettando nel dolore e nella disperazione una famiglia. Noi non siamo sordi alle grida di dolore dei poveretti. Non chiediamo altro da te che una lettera al capitano di giustizia per l'immediata scarcerazione di Don Girolamo ammirata e del suo nipotino. Don Raimondo sospirò e si rinfrancò alquanto. Temeva di peggio. Tuttavia obiettò ma non dipende da me. Il capitano di giustizia trattiene in carcere quei due poveretti unicamente per farti piacere. Scrivi. Il tono non ammetteva replica. Don Raimondo era in balia di uomini che possedevano tutte le armi per ucciderlo e non chiedevano, infine, che una cosa ben lieve offrire la quale non era poi per lui un grande sacrificio. prese la penna, l'intinse e tirò a sé un foglio. Con sua meraviglia si accorse che era la carta che egli soleva adoperare, una carta un po' azzurrognola. Scrisse, sebbene con la mano un po' tremante, e consegnò la lettera all'uomo mascherato. La lettera diceva così illustrissimo, espettabilissimo, signor capitano e amico veneratissimo. Oltremoto grado a vostra signoria per avere a mia preghiera fatto sostenere in carcere il signor Don Girolamo ammirata e il suo nipote. Per la mancanza nota a vostra signoria vengo ora a pregarla, perché si degni rimetterli in libertà non sussistendo più le ragioni della loro prigionia e ritenendo che la pena sofferta abbia soddisfatto il legittimo risentimento della mia casa. Certo che vostra signoria accoglierà la mia preghiera, me le dichiaro riconoscentissimo e la prego di considerarmi sempre fra i suoi fedeli servitori, il duca della morta. Sta bene, disse l'uomo, chiudila e suggellala. Con uno stupore ancora più grande e quasi terrificante, Don Raimondo si accorse che la cera e il sigillo erano i suoi. Come si trovavano lì? Comano più tremante per la commozione di quella scoperta scrisse l'indirizzo all'illustrissimo signor il signor di Raffaello Bellacera marchese di Regalmici capitano giustiziere del regno di Sicilia Palermo. Consigliò la lettera e aspettò guardando con occhio sospettoso. L'uomo mascherato riprese vi ho detto che non vi sarebbe stato torto un capello e mantengo la promessa ma badate signor Duca il menomo passo che voi farete o per molestare Don Girolamo a Mirada o per mettervi sulle nostre tracce vi costerà la vita e l'onore ora sapete quello che possiamo. Gli dava del voi adesso ma senza smettere il tono aspro e autoritario fece un segno a uno degli uomini mascherati vendatelo e riconducetelo. Nuovamente Don Raimondo fu vendato e legato e ricondotto per mille anni di vieni salendo e scendendo scale si sentì riporre nella portantina sollevare trasportare dopo un po' di cammino la portantina si fermò un uomo mascherato senza fare motto sciolse la cordicella tolse la benda e sparve. Don Raimondo vide una luce rossastra si affacciò timidamente vide i due volanti con le torce e i due portantini riprendere le cinghie delle aste come se nulla fosse accaduto si ricacciò dentro mormorando coi denti serrati in un impeto di collera contro i servi vigliacchi briganti vi licenziro tutti andiamo appena giunse a casa corse nel suo studio la sua cera il suo sigillo erano lì sopra un vassoio accanto alla candela guardò intorno le finestre erano serrate non vera la più lieve orma umana un tremore superstizioso lo colse cadde sopra un seggiolone con la testa fra le mani immerso in profondi e terribili pensieri grazie